Bologna e il Dallare è sempre uno stadio che a me piace tantissimo. Mi stimola, mi stimola come piazza, stimola come ambiente e mi auguro che domani sia una bella partita. Bologna è partito sicuramente male all'Olimpico con la Lazio, non ha fatto bene la prima mezz'ora, però devo dire che nel secondo tempo è cresciuto tantissimo, anche a livello fisico. Per quello ho detto già ai miei ragazzi che troveremo una squadra che ha avuto magari un impatto non buonissimo inizialmente, ma che è una squadra in crescita, l'ha dimostrato specialmente nel secondo tempo. Perché lo dobbiamo prenderla nel modo giusto, con grande cattività e determinazione, perché giocheranno la prima gara davanti al loro pubblico e ci terranno a far bene. Ma noi ragioniamo sempre per quello che è il nostro lavoro, il fatto di avere dato continuità a un certo tipo di giocatori. E' ovvio che anche noi dobbiamo integrare e far entrare ancora al meglio nei meccanismi nuovi arrivati, però sicuramente sotto questo punto di vista abbiamo qualche piccolo vantaggio. Devo dire che al Bologna è arrivato un giocatore, dal mio punto di vista, molto forte, che negli ultimi anni non si è visto tantissimo come destro, ma che ha grandissime potenzialità, è un giocatore che può risolvere da un momento all'altro la partita. E poi quel vecchietto di Brienza che ha giocato con me e che vi assicuro che è un giocatore che ha ancora grande qualità e anche fisicamente lo trovo un giocatore integro. Ma al di là di chi giocherà al posto suo quando si fanno delle squadre, io ho voluto sempre delle coppie in tutti i ruoli, nel senso che può capitare, questa infortuna mi è capitata domenica, cerchiamo di sopperire al meglio. Per esempio Matteo Pulitano, un giocatore che sta lavorando benissimo dall'inizio del ritiro, potrebbe essere lui, come possa avere tante alternative, come poter mettere Sanzoni, e lo stesso Laribi che ha ricoperto quel ruolo anche in passato.